Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, venerdì 2 marzo 2018, a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, ultime ore di duelli, dopodiché da questa sera a mezzanotte scatterà il silenzio elettorale che si protrarrà per tutta la giornata di domani e poi da domenica mattina e solo per la giornata di domenica saranno aperti i seggi per andare al voto le politiche del 2018, poi già da domenica sera, ma più certamente da lunedì mattina, conosceremo mano a mano i risultati di questa importantissima tornata elettorale. Chiaramente di questo si parla è tanto e non può essere altrimenti sui giornali, rivedremo anche alcuni dei servizi confezionati ieri dal TG6. Iniziamo subito con la rassegna delle prime pagine dei tre quotidiani locali e partiamo ancora meglio con le quattro edizioni del centro. Siamo su quella di Pescara, l'apertura con la cronaca, aggredisce sul bus la figlia della ex paura sulla riviera adolescente minacciata dall'uomo, vieni con me o ti ammasso. E poi appunto la politica con le foto dei tre leader dei principali schieramenti, quindi leggiamo Abruzzo, lavoro tasse, parlano di Maio, Renzi e Berlusconi. Verso il voto partiti ultimi appelli prima del silenzio elettorale. Scendiamo e leggiamo per la cronaca di Pescara. Viabilità, strada parco, scontro sui minibus elettrici, poi la fotonotizia al centro, chiusa la lite per il tribunale, ripartono i lavori, accordo con le imprese. Il comune paga 6,7 milioni di euro. E poi di spalla l'itinerario, ciaspora ai piedi, serra sparvera imperdibile con la neve. Scendiamo, arrestato a Pescara, sorpreso a spacciare davanti alla scuola. Il caso di penne, la strada è dissestata ma i canoni vanno pagati. Per lo sport, leggiamo in basso, progetto ambizioso tra società abruzzesi, Sebastiani, Candeloro, prove d'intesa. I presidenti di Pescara e Francavilla, calcio, unire le forze. Proseguiamo con l'edizione aquilana del centro. L'apertura, seggiovia fontari, slitta il collaudo. L'aquilà ritarda l'apertura. Il commissario De Nardis, c'è tanta neve, si recupera. E poi andiamo a centro pagina. L'aquila, la ricostruzione, genio civile, rinforzi per le pratiche arretrate. La fotonotizia sul Mona, protesta in centro storico. La marcia dei 230 commercianti abbandonati. E poi ancora scendiamo in basso. Indagato ad Avezzano, riscuote la pensione della madre morta. La polemica, fucino caro bollette per 6.000 agricoltori. E poi per lo sport, atletica l'aquila. Tre allieve, il titolo regionale campestre. La società brilla con biondi, santucci e bulsei. E ora l'edizione terramana del centro. L'apertura, coltellata a scuola. Salterà l'anno a Giulianova. Sospeso fino a giugno lo studente che ha ferito al viso un compagno. E poi andiamo in basso. Teramo, il progetto del comune. Siamo alla fotonotizia. Mercato coperto a rischio 4,6 milioni di fondi UE. La coda del maltempo. Corse tua e scuolabus fermi per il ghiaccio. E poi in basso i numeri dell'ufficio speciale. Gli sfolati del sisma sono ancora 4.400. Finanziata l'opera. Roseto, nuovo pontile pronto per l'estate 2019. E poi in basso il ristoratore di Civitella, Daniele Zunica. Apre un'osteria ad Ascoli. Sarà un locale di lusso nel centrale Palazzo Guiderocchi. E ora chiudiamo con il centro, con l'edizione di Chieti. Vediamo il titolo d'apertura. A Chieti arrivano sconti sull'Atari. Agevolazioni per imprese e famiglie, ma resta l'allarme per i rifiuti in arrivo da Roma. La fotonotizia. A Chieti si sale e si scende solo a piedi. Scala mobile ancora rotta. Beffa per i pendolari. E poi ancora. Muratore, residente a Casoli. Violenza sessuale assolto dopo l'arresto. Scendiamo. Chieti, dipendenti in ansia. Istituti San Giovanni. Gli stipendi in ritardo. E sempre a Chieti. Tiate servizi. Polemica sul compenso del direttore. In basso ancora parla il costituzionalista Costa Tiatina. Chi blocca il parco di Salvatore? Governo e regione responsabili dello stallo. Avanti con la prima pagina del messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura con la corona che spacciava fuori dalla scuola. Pescara, studente di 18 anni, arrestato mentre cedeva due dosi di droga ai compagni. Pochi giorni fa un altro ragazzo. Era stato denunciato per la marijuana nello zainetto. Poi, sotto la testata, elezioni, dossier, accuse e veleni. Alle urne il caso Teramo. A Chieti, falso cieco totale. Scoperto perché gioca a gratta e vinci. Per il calcio di Serie B. Pescara con il Cittadella. Cambia tutto il tridente. Bisogna tornare a fare gol su azione dentro Mancuso con Pettinari. A fine stagione ci sarà il divorzio con Mr. Zeman e il DS Pavone. Di spalla leggiamo anche Concialowski. Sceglie per il suo film Paolo Cameli. Lo scenografo di Pineto ha lavorato in passato anche con Roberto Benigni. Vediamo in taglio medio, intanto, la fotonotizia. Altri agenti inquinanti nell'acqua. Riscontrata la presenza di idrocarburi. E poi, sempre in taglio medio, molesta sul bus una ragazzina, figlia della sua ex. L'uomo aveva già stalkerizzato la madre. Addosso aveva un coltello ai domiciliari. E poi polemiche all'Aquila sui sottoservizi. Sottoservizi la GSA citata a giudizio. Adesso andiamo sulla città. Vediamo la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo. Contaminazioni passate sotto silenzio. Questo il titolo d'apertura della città. Il forum dell'acqua. Scova. Altre tre, altre emergenze avvenute nel traforo. Mai arrivate all'opinione pubblica. E poi vediamo sotto la testata la politica a Giulianova. Costantini compatta il centro-destra. E poi la fotonotizia. Ancora la cronaca. Teramo tormentava le studentesse. Ma era incapace di intendere. Assolto il maniaco. Di spalla partito comunista. Marco Rizzo. Unico candidato premier passato nel capoluogo. E poi proposta quagliariello. Basta vincoli. I parchi siano una opportunità. In basso. Fibrillazioni sul Toto Assessori. Siamo a Roseto. Tutte le reazioni sul previsto rimpasto di giunta. E poi ancora scuole aperte. Mezzi fermi. Pastrocchio. Scuolabus anche in città a Teramo. La relazione del DIS. Migranti. Pericolo. Giù che minaccia. Infine per lo sport. Calcio di serie C. Teramo. Ventola subito in campo contro la capolista Padova. Lasciamo per il momento le testate locali. Andiamo a sfogliare le prime pagine delle testate nazionali partendo dal Corriere della Sera. Ecco l'apertura dedicata appunto alla politica. Berlusconi lancia Tajani. Intervista a Gentiloni. No ai populismi. Un voto decisivo. L'Italia rischia. Il Presidente del Parlamento europeo accetta la candidatura di Forza Italia a Premier. Poi scendendo le proprie. polemiche appunto sul fronte elezioni. Intanto sui 5 Stelle. Di Maio ecco i ministri. Un caso. Quello della scuola. Grillo finita l'era del Vaffa. E poi il colloquio con Matteo Salvini. Mai intese con PD o 5 Stelle. Poi vigilerò su Silvio. La foto notizia. Eccola qui. La sfida nucleare di Putin. Nuovi missili. Noi invincibili. Il leader russo agli Stati Uniti. Ora ci ascolterete. I dubbi di Washington. Andiamo ora su Repubblica. Ecco il titolo d'apertura. Renzi. Non date l'Italia alla Lega. Forza Italia a Tajani. Io candidato Premier. Nella lista dei ministri 5 Stelle spuntano il filo PD. C'è un preside che scrisse la buona scuola. L'intervista al segretario PD. Deve essere chiara a tutti. L'Italia rischia una maggioranza con Grillo, Salvini e Meloni. Senza il PD l'intero sistema non tiene. Rischiamo l'invasione dei barbari. La squadra 5 Stelle dei prof. Di Maio ha presentato la lista degli aspiranti ministri. Tre provengono dall'università privata dell'ex DC Scotti. Polemiche per il preside che ha scritto la buona scuola. Poi Forza Italia. Il sì di Tajani. Il presidente del Parlamento europeo accetta il ruolo di candidato Premier offerto da Berlusconi. La fotonotizia. Giornalista ucciso. Arrestati sette italiani. I soldi dei clan investiti in Slovacchia. Avanti con la stampa. Ecco l'apertura di Maio. La squadra dei prof. Sconosciuti. Movimento 5 Stelle presente ai ministri. Uno collaborò alla buona scuola di Renzi. Il leader ci deridono. Riderò io. Berlusconi mattatore alla manifestazione unitaria del centro-destra. Il PD cerca di recuperare. 2 milioni di delusi. Poi in basso. Rossana Rossanda. La sinistra risale. Se riscopre i deboli e i progressisti timidi rischiano l'estinzione per la loro miopia. La fotonotizia. La minaccia di Putin. L'arma invincibile. Il presidente russo parla alla nazione. Esibisce l'arsenale nucleare e avverte gli Stati Uniti. Sbagliato. Ignorarci. Avanti ancora. Siamo sul sole 24 ore. Ecco l'apertura verso il voto. I timori degli investitori su conti pubblici e riforme. Preoccupa una inversione di rotta sul risanamento. L'attenzione focalizzata più sulla tenuta del bilancio che sulla volatilità. Poi leggiamo anche. Cresce il PIL. 1,5%. Arretra il debito. Il deficit va meglio delle previsioni. Ai minimi del 2011. La disoccupazione giovanile. E poi in basso ancora. Marelli. Spunta il piano CDP. Sul tavolo anche le offerte di Ben Capital e di società cinesi. FCA valuta il doppio binario. Ipo o cessione del gruppo della componentistica. La prima pagina del Fatto Quotidiano. Ecco l'apertura. Decreto Banche. Insider Renzi De Benedetti. Il GIP non archivia e fa nuove indagini. L'affarone da 600 mila euro. E poi candidato PD. Brani da un dossier online. De Luca Junior è docente con un libro copiato. E poi ancora da leggere e diffondere. Berlusconi delinquente naturale. Le sentenze dicono che è colpevole ma impunito. E poi in taglio medio. Tempismo. Gentiloni. La marcia elettorale agli statali col cedolino ad hoc. Subito prima del voto. L'aumento del nuovo contratto è arretrati. E poi squadra a 5 stelle di Maio. 17 ministri. Quasi tutti prof. 5 donne e 12 uomini. Bagnacani da IPM. Ama. L'amministratore delegato denuncia e registra due forzisti. Mi minacciano. Proseguiamo con il manifesto. L'ufficio tecnico. Questa è l'apertura con una foto dei candidati. Tra virgolette candidati ministri. La squadra è comunque presentata dai 5 stelle. Economisti keynesiani espansivi e donne nei ministeri di serie A. Sono i protagonisti del governo virtuale di Di Maio che ieri ha presentato la squadra pentastellata. Professori esterni al Movimento 5 stelle e tecnici senza storia politica per spingere l'ultima propaganda. E poi sotto la testata l'EU crescerà con i delusi del PD. Intervista a Pietro Grasso. Plurali ma uniti. Andremo avanti. e ora il messaggero. Ecco l'apertura. Tajani. L'investitura di Berlusconi. Ha sciolto la riserva. Ha sciolto la riserva. Il candidato premier. Patto antinciucio tra i leader del centrodestra. Di Maio presenta il suo governo. Lunedì rideremo noi. Grillo. Basta. Vaffa. Si chiude un'epoca. Sotto la testata l'intervista al filosofo Floridi. Diritto all'oblio nel web. Servono regole certe per lo sport. Per il calcio di serie A. Domani gli anticipi Roma e Lazio con Napoli e Juve. Incrocio decisivo. Scudetto Champions. E poi in basso la fotonotizia. Putin presenta il supermissile. Trump deve trattare con me. l'avviso dello Zari. Impossibile intercettarlo. E poi sempre in taglio medio. Binari nel nord. Doppia inchiesta. E per Mazzoncini. Grana pendolari. Dopo il disastro di Pioltello. Rotai e spezzate. Anche a Pavia e Varese. E poi a piedi pagina. Nessuno fermò il militare killer. Il PM indaga. Latina ignorate le denunce della moglie. Sul carabiniere violento. Siamo sul tempo. L'apertura. Cantone. Bacchetta. La raggi. Il capo Anac al tempo. La sindaca annuncia il mio ok sullo stadio della Roma. È falso. C'è ancora molto da controllare. Pallotta. Adesso basta. Acceleriamo. E poi la fotonotizia. Il poker è servito contro il grande blef. I leader insieme per blindare l'alleanza. E Tajani apre. Pronto a fare il premier. I leader sono quelli della coalizione di centrodestra. Andiamo avanti. Siamo su Libero. I treni non vanno. I profughi vengono. Sfacelo italiano continuo. Ha bloccato un convoglio regionale. Quello dei pendolari su due. Gli altri viaggiano in ritardo. Siamo efficienti soltanto se dobbiamo accogliere immigrati di ogni colore. 5 mila in due mesi. E poi la fotonotizia. intervista al leader azzurro. Un gran finale di Berlusconi. Tasse, pensioni, immigrati. Tre motivi per cui votarmi. Conviene a tutti. E dopo di me c'è stato il diluvio. Ma con il Movimento 5 Stelle sarebbe pure peggio. Se Salvini mi supera. Lo sosterrò. La verità. Fuga per la sconfitta. Renzi prepara la scissione dal PD. Già studiato un partito personale sulla falsariga di En Marche di Macron. Dopo il voto il segretario vi traghetterà i suoi parlamentari lasciandosi alle spalle un guscio vuoto. Poi lancerà un OPA su Forza Italia. La fotonotizia. Salvini. Volo al 20% e divento premier. Creò il Ministero per i disabili. E poi ancora in basso. Nove accuse e misteriosi dossier su boschi. La procura di Belluno indaga sul racconto di due gole profonde che coinvolgono il padre del sottosegretario in una vicenda di riciclaggio, traffico d'armi e violenze. Un sottobosco in cui si muovono pure 007 e alti prelati. Ora andiamo sull'avvenire con il titolo d'apertura. Fanta governo a 5 stelle. Renzi 1 era con noi. Il centrodestra riunito a Roma. Competizione interna per la leadership. Lupi. Ora il fattore famiglia si può fare con 4 miliardi. E chiudiamo con il mattino. L'apertura centrodestra. Il patto di fedeltà di Maio presenta la squadra e scoppia il caso Giuliano. Renzi scrisse con noi la buona scuola. I leader uniti a Roma. Nessun inciucio dopo il voto. E Berlusconi ufficializza la candidatura di Tajani. A Premier. Possiamo lasciare le prime pagine nazionali. Torniamo sulle locali. Ma comunque riprendiamo la questione voto. La questione politica. Con pagina 2 del centro. Ultimi appelli. Poi il silenzio elettorale. Il PD chiude al Teatro Massimo a Pescara. L'Aquila arriva a Bertolaso per sostenere Forza Italia. L'EU saluta con musica live. E poi in basso la lista 10 volte meglio. Tre appuntamenti fra Pescara e L'Aquila. E aperitivo sull'Ape. L'Arcigay Chieti dai partiti risposte tiepide alle proposte arcobaleno. E poi più Europa con Emma Bonino. Gli europeisti si incontrano in centro al caffè Berardo. avanti. Ancora ci sono una serie di interviste ai leader principali, ai leader delle principali coalizioni. Berlusconi in Abruzzo vinceremo due volte il presidente di Forza Italia. Questa è una regione moderata. Prevarremo alle politiche, alle prossime regionali. Poi il nostro sistema di flat tax è conveniente soprattutto per chi ha redditi bassi. Per chi non pagherà nulla e per chi ha redditi medi che pagherà molto poco, molto meno di oggi. Mai più un disastro come il terremoto dell'Aquila. Il nostro governo farà di tutto per prevenirlo ma anche per trovare una soluzione per le vittime dei più recenti terremoti. Qui alcune foto di Silvio Berlusconi, una con il coordinatore regionale azzurro Nazario Pagano. Andiamo alla pagina successiva, la volta del leader pentastellato Di Maio. Diamo più valore all'Abruzzo, il leader 5 Stelle in industria in crisi. La regione ha grandi risorse non delocalizzabili come ambiente e tipicità. puntiamo su quelle. Chi andrà a votare saprà non solo il candidato premier del Movimento ma anche i candidati ministri. Abbiamo regole che ci rendono diversi dagli altri, che ci rendono forza politica credibile e coerente. Andiamo alla pagina successiva, la volta del leader del centro-sinistra, del PD Renzi. Lavoro di qualità per i giovani del Sud. Il segretario del PD stiponeremo le assunzioni a tempo indeterminato, la legge Fornero. Supereremo le eccessive rigidità. Noi abbiamo investito sul Sud e sulle sue straordinarie potenzialità come nessun altro governo prima. E poi prosegue Renzi. La sinistra di governo incarnata dal PD è la soluzione più affidabile ai problemi degli italiani. Proseguiamo e lasciamo per il momento la parentesi politica. Andiamo sulla pagina 14, pagina Abruzzo, con App Abruzzo, fiera finanzia, giovani imprenditori digitali. Pubblicata la gradatoria con le 44 domande ammesse. I vincitori riceveranno 17.700 euro per i loro progetti. Poi ancora in taglio medio l'allarme dei 5 stelle sui fondi europei. Abruzzo a rischio disimpegno ma Rivera ribatte. Tutto in regola. Sono solo fake news elettorali. Avanti ancora siamo a Pescara. Accordo storico. Chiusa la vite sul Tribunale. Il Comune paga 6,7 milioni. Firmata la transazione con le imprese. L'edificio verrà finalmente completato. E allora vediamo il servizio realizzato dal Tg6 sul Consiglio Comunale di ieri a Pescara su questa storica transazione con il Tribunale. Dopo la sospensione dovuta all'ondata di maltempo e neve si è tornato a riunire il Consiglio Comunale di Pescara. All'ordine del giorno diversi punti legati alla viabilità tra cui il progetto che prevede il taglio di diversi posti auto lungo la riviera. Il piano viene contestato dall'opposizione. Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia, presenta l'ordine del giorno per cercare di fermare l'intendimento dell'amministrazione comunale. La nostra richiesta e quindi sollecitiamo il Consiglio Comunale a prendere una posizione è quella di apportare una piccola modifica al progetto sostanzialmente utilizzando a parcheggio l'area che oggi è strada davanti al teatro d'annunzio. In maniera tale non si perderebbero i posti auto, non si perderebbero i posti per le moto. Garantiremmo cioè un'attività seria e serena da parte degli stabilimenti balneari. Garantiremmo anche la possibilità di parcheggiare a coloro i quali vogliono fruire durante l'estate del teatro d'annunzio. Non mettiamo in discussione l'idea di riqualificazione della riviera sud che anzi è giusto portare avanti ma questo non può determinare una penalizzazione fortissima per un settore così importante che quella delle attività balneari. Nel frattempo la Giunta Alessandrini ha chiuso con una transazione con Sapro e Ati Astaldi il contenzioso sui lavori di realizzazione del Palazzo di Giustizia di Pescara. Per le casse del Comune, dice il primo cittadino, ci sarà un risparmio di 2,6 milioni di euro. Noi chiudiamo un contenzioso che dura da 15 anni e ridiamo dignità ad una struttura il Tribunale di Pescara che è resa invalidata da oltre un decennio. Chi ha familiarità con quei luoghi sa che ci sono delle transenne, delle transenne blu perché c'è un problema rispetto alle lastre che rischiano di cadere per un fenomeno di incurvatura, tecnicamente noto come bending. Oggi definiamo questa vicenda transattivamente con un accordo complessivo che fa risparmiare rispetto a 15 anni di cause 2,6 milioni al Comune di Pescara. Contestualmente noi avremo la sostituzione di 24 mila metri quadri di lastre che dal marmo saranno ingress di identica finitura estetica ma senza il problema del distacco. Contestualmente avremo anche il collaudo dell'opera perché lo ricordo bene il Tribunale di Pescara non ha collaudo. I lavori di sostituzione delle lastre dureranno 17 mesi, sono state già autorizzate dal Proveditorato alle opere pubbliche e quindi abbiamo ragioni di grande soddisfazione oggi. Strada Pendolo, sbloccati i lavori per 5 milioni di euro, il Consiglio dà il via all'acquisizione delle aree per completare il percorso, approvata anche la delibera per realizzare 24 alloggi per disabili a Fontanelle. Poi in basso depuratore via al potenziamento, consegno ufficiale dell'appalto da 8 milioni e mezzo, l'opera sarà pronta nel 2019. Avanti ancora sempre a Pescara, figuranti in quattro parrocchie per la passione di Cristo, questa sera la Regina della Pace, la prima rappresentazione della via Crucis, all'organizzazione collaborano l'associazione Cavaticchi e gli amici della Saletta. E poi ancora torniamo alla cronaca Paura sulla Riviera, per seguita una quattordicenne la aggredisce sul bus, l'uomo di 53 anni è stato arrestato mentre fuggiva, aveva un coltello, non voleva accettare la fine della relazione con la madre dell'adolescente. E poi ancora sempre la cronaca, marijuana a due minori, beccato davanti alla scuola, un diciottenne incensurato, arrestato dalla mobile all'ingresso dell'alberghiero, colto in flagrante mentre cede pochi grammi di droga a 5 euro e ai domiciliari. Avanti ancora ambientalisti a confronto, strada parco, si discute anche sui bus elettrici, comitati tutti d'accordo sull'archiviazione della filovia e sul divieto di transito per i mezzi pubblici. Sorgentone fuori dal coro, non si può sempre dire solo no. E poi ancora in basso d'annunzio i nuovi libri, alla Ternino si parla del Vate e del mangiare bene abruzzese. Siamo alle pagine di Monte Silvano, degrado urbano, prima tappa via Lazio, il camper della legalità fotografa montagne di rifiuti, case occupate di saggio sociale. Agliano qui come scampie. Poi in basso, sul fronte elezioni politiche, mezzo della misericordia per aiutare i disabili a votare. E poi ancora a Spoltore, sequestrate 10.000 dosi di hashish, operazione della Guardia di Finanza, ai domiciliari un albanese incensurato di 30 anni, trovato con 5 kg di droga. Secondo gli investigatori, l'uomo si era appena approvvigionato per rifornire gli spacciatori. Lo stupefacente avrebbe fruttato 50.000 euro. E poi a Pianella è scontro sul centro immigrati. Sospiri attacca il presidente dell'Asp che contesta lo sgombero di nove ospiti. Recubini deve dimettersi. E poi ancora a Francavilla, targhe per i negozi storici, presentate 14 domande. E' scaduto il termine per ottenere il riconoscimento da parte dei titolari di esercizi commerciali con almeno 30 anni di attività. E poi di spalla, assunta la vigilessa che ha fatto causa al comune. Il comune è quello di San Giovanni Teatino. Poi ancora a pagina 26, a Penne, le strade sono a pezzi, ma i residenti pagano da 228 a 316 euro il canone per il diritto di transito sulla provinciale. Insorgono i contribuenti a Villadegna. Qui non passano più neanche i bus. Siamo ora alle pagine di Chieti. Gli ostacoli della mobilità. Scala mobile, ferma, la beffa dei pendolari. Motore guasto da giorni, funziona solo una rampa su quattro. L'ascensore al parcheggio del terminal è fuori uso da dieci anni. E poi in basso, Teate Servizi, scontro sul compenso del DG. Denuncia dei 5 Stelle, raddoppiato lo stipendio base di 35 mila euro. Il direttore replica tutto in regola. A Casoli, in provincia di Chieti, fu arrestato, ma non abusò della sedicenne. Assolto dalla violenza sessuale, incubo finito per un muratore nei guai l'amica della ragazza, gli atti inviati alla procura per falsa testimonianza. E poi, sempre a Casoli, il giudice riassume 19 lavoratori, licenziamenti Meveppa, l'azienda condannata anche all'indennità risarcitoria. A Ortona, amianto gettato in strada, il comune avvia la bonifica. L'amministrazione interviene con la pulizia dei siti dopo i rilievi dei vigili. Segnalazioni in via Martella, Contrada Feudo e Villa Grande. Siamo alle pagine di Teramo, mercato coperto, comune in ritardo. La città rischia di perdere 4,6 milioni. In bilico i fondi dell'Unione Europea da destinare alla riqualificazione dell'edificio e all'acquisto di bus elettrici. Poi, di spalla, appello del candidato sindaco Covelli, non allo slittamento della fiera dell'agricoltura. In basso sisma, gli sfollati terramani sono più di 4.400. Dopo un anno i numeri restano simili a quelli dell'emergenza, finora spesi quasi 50 milioni di euro. E poi, coltellata tra studenti a Giulianova, l'aggressore perderà l'anno scolastico. Il Consiglio d'Istituto lo sospende fino a giugno il suo legale punizione eccessiva che peggiora le cose. E poi, a Civitella del Tronto, soldi per il restauro della fortezza dal MIBACT 2 milioni per le parti degradate e i danni del sisma. A Datri, le parole del sindaco Astolfi. Mai arrivati i fondi per la frana di Casoli. Il sindaco replica alla consigliera Ferretti sull'annuncio dello stanziamento. Da Regione Governo uno spot elettorale alle parole. Speriamo seguano i fatti. Poi, ancora, andiamo sulle pagine aquilane. Seggio via delle Fontari, slitta il collaudo. Ma il commissario Denardi si è ottimista. C'è tanta neve e possiamo ancora fare concorrenza alle altre stazioni. Ieri il direttore degli impianti, Marco Cordeschi, era a Roma, nella sede dell'Ustif, per verificare con i funzionari del Ministero dei Trasporti che la documentazione fosse a posto. È stato deciso che i possessori di Schipass potranno utilizzarlo per ciò che rimane della stagione 2017-18. Ne avranno uno in omaggio per il prossimo anno. In basso, ad Avezzano, riscuote la pensione della madre morta. Indagato un 54enne ad Avezzano, l'anziana è deceduta da tre anni. Sequestro di beni per oltre 44 mila euro. E infine, sul fronte ricostruzione, arrivano i rinforzi per il genio civile. Una task force di 47 professionisti per smaltire in due mesi le oltre 350 pratiche arretrate. Alla fine resteranno 19 ingegneri. L'organico in più è composto da 10 dipendenti di Abruzzo Engineering, 3 di ISEA e 15 esterni, oltre ai 19 istruttori tra l'Aquila, Avezzano, Sulmona e Teramo. Già operativi. Ci fermiamo, chiudiamo qui la prima parte di mattino 6, poi rientriamo con le pagine di Messaggero, la città e per vedere altri servizi del TG6. Buongiorno di nuovo, seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il Messaggero Abruzzo e torniamo a parlare delle imminenti elezioni politiche. Gli ultimi scontri, dossier, accuse, veleni, Teramo alle urne in un clima di tensione. Mariani del PD, querela Berardini dei 5 Stelle per una presunta fake news su Facebook. Anche Zennaro, vittima di un blog, Rassicci del centrodestra, è la novità. I candidati riflettono in qualche modo la situazione caotica che in comune ha fatto cadere la giunta Brucchi. E poi Crack ex Carichietti, ripeto, cerca la sponda del Movimento 5 Stelle. A tal proposito vediamo il servizio. Colletti, sulla vicenda Carichietti, voi questa mattina in conferenza stampa avete denunciato il silenzio delle istituzioni. Perché? Noi partiamo da una vicenda specifica che è un finanziamento di ben 32 milioni di euro alla vecchia fondazione di Cuccarese in cui c'entrano molti politici e in cui sono stati fatti da parte di imprenditori i nomi di D'Alfonso e Lignini per arrivare a dover capire cosa è successo in tutti questi anni dentro Carichietti. Cosa è successo dentro Carichietti in quanto a finanziamenti, in quanto a occultamenti, in quanto alla presenza della politica dentro Carichietti e del perché la magistratura si è svegliata anzi troppo tardi su questa vicenda. La magistratura avrebbe dovuto intervenire ben prima, adesso sta intervendo con molta lentezza e quindi proprio per questo motivo noi proporremo appena entrato in Parlamento l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta solo sulla Carichietti perché quello che è emerso dalla commissione generalista sulla stato delle banche non è assolutamente sufficiente. Oltretutto Carichietti era una banca che anche secondo la sentenza di fallimento in realtà non doveva fallire ed è stata fatta fallire apposta da Banca Italia perché doveva rientrare in un accordo generale con l'Unione Europea. Ancora sul fronte politica il PD lancia ad Alfonso Bertolaso all'Aquila tra gli appuntamenti principali di questa ultima giornata di campagna elettorale. Siamo alle pagine di Pescara torniamo alla cronaca droga ai compagni di scuola preso studente diciottenne dell'alberghiero arrestato dalla mobile mentre cedeva stupefacenti a due minori fuori dalla scuola in manette anche un trentenne spacciatore di cocaina i clienti lo contattavano invitandolo a cena o al cinema i due arrestati sono ai domiciliari l'alunno è stato colto in flagranza in un'azione mirata alla prevenzione poi bloccato con 5 chili di marijuana la guardia di finanza sorpreso a spoltore un trafficante con 10.000 dosi del valore di 50.000 euro proseguiamo minacciata dallo stalker della mamma affronta sul bus la figlia della ex compagna una ragazza di 14 anni e cerca di costringerla a scendere e a seguirlo bloccato dall'autista da un finanziere che si trovava a bordo è stato poi arrestato dalla polizia aveva addosso anche un coltello lui ha 53 anni abita in provincia era già stato colpito da una misura cautelare per atti persecutori e poi abbiamo visto il servizio in precedenza chiuso il contenzioso sul tribunale ora collaudo e conto al ministero in basso lavori al depuratore lati di imprese promette un mare più pulito d'estate la prima fase sarà completata entro giugno il resto nel 2019 l'opposizione opere elettorali allora vediamo il servizio sui lavori di ampliamento del depuratore di Pescara circa 8 milioni di euro di fondi regionali sono questi soldi a disposizione del parco depurativo di Pescara che dovrebbero mitigare i problemi legati al sovraccarico degli impianti di trattamento delle acque del capoluogo che tanti problemi hanno creato alla bagnazione del mare negli anni passati questi lavori consentiranno al depuratore di resistere ad ogni fabbisogno è come se si potesse doppiare questa città circa il fabbisogno di depurazione e con questi lavori noi la mettiamo in capacità perfetta di funzionamento il 25 maggio del 2019 saranno conclusi i lavori che sono stati consegnati oggi per portare l'impianto alla portata di 210 mila abitanti anche se i primi risultati dovrebbero essere tangibili già a partire dal 30 giugno quando si concluderà la prima fase di pretrattamento delle acque non solo migliorerà comunque la capacità ma anche la qualità del funzionamento del depuratore per esempio è previsto un sistema di pretrattamento che migliorerà anche in caso di pioggia e quindi anche nel caso in cui le quantità di acqua che arriveranno al depuratore saranno molto al di sopra delle capacità di smaltimento del depuratore di trattarle adeguatamente sono stati già ordinate le apparecchiature che riguarda il pretrattamento per poi completarlo come diceva il presidente per giugno dell'anno prossimo 2018 giugno già ci saranno i primi risultati perché attiveremo comunque come impresa l'impianto di pretrattamento come si diceva prima sempre sul messaggero restando a Pescara teatro concerti libri roba da matta da domani a maggio nello spazio di via Granzasso il festival dedicato alla relazione tra spettacolo e contesto urbano l'apertura affidata a Gloria Giacobini che in soglio le ha piacere racconta in chiave ironica le difficoltà delle giovani generazioni sperimentazione e coinvolgimento del pubblico sono le chiavi di lettura della rassegna e poi taglio medio con il ribelle nuova tappa del trentennale del Florian per la regia di Gianmarco Montesano Umberto Marchesani riassume gli incubi del novecento e poi ancora in basso Campus Barcellona le stelle nascenti si alleneranno a Città Sant'Angelo avanti siamo alle pagine dell'Aquila sotto servizi GSA citata a giudizio non possiamo rientrare a casa per la prima volta un privato porta in tribunale la stazione appaltante del maxicantiere in centro richieste di allaccio utenze in evase per anni fino all'ultima beffa servono ancora dei lavori dopo l'odissea dei commercianti il calvario dei residenti l'atto è stato firmato dall'avvocato Corti e poi in basso lungo il corso opera finita in una ventina di giorni tornano a parlarsi commercianti amministrazione Cioni saremo vigili gli esercenti Pasqua buttata e poi in basso Gran Sasso personale rimpasto la ricetta di Biondi e poi ancora sempre all'Aquila Campomizi scontro tra Comune e Azzu Zobel struttura rischio chiusura senza il rinnovo del contratto con il Ministero della Difesa l'esito è inevitabile Biondi smentisce non c'è alcuna volontà di smantellare finora l'azienda si è limitata a lamentarsi senza offrire soluzioni e poi ancora in basso verso il voto cialente veleno su Bertolaso il PD ha chiuso la campagna a lancia l'ex sindaco voleva uccidere la città D'Alfonso a zerare la distanza con Roma proseguiamo siamo in Marsica ad Avezzano screzio tra De Angelis e Paolucci il primo cittadino sorpreso dalla visita dell'assessore regionale alla sanità nessuno mi aveva avvertito l'annuncio 140 milioni di euro sdoganati dal bilancio statale per gli ospedali di Avezzano sul Mona Lanciano Vasto e Penne per la struttura sanitaria marsicana disponibile 83 milioni di euro per quella peligna 36 milioni proseguiamo andiamo sulle pagine di Chieti scoperto un falso cieco totale filmato mentre fa gli acquisti un uomo di 69 anni finisce sotto processo per il PM e una truffa ai danni dell'Inps ripreso in tabaccheria quando compra pacchetti di sigarette e gratta e vince l'imputato nega ogni accusa inchiesta scattata dopo la segnalazione arrivata ai carabinieri di spalla teatro e servizi non riscuote triplica lo stipendio al DG secondo i 5 stelle nella nomina di Barbone ci sarebbero gravissime irregolarità e poi ancora andiamo sulla pagina successiva e siamo a vasto lavoro poche luci e tante ombre alla Robotech tremano 120 dipendenti dall'arma dei sindacati il futuro della Pilkington è un'incognita il mercato fa paura note positive dal settore chimico bene Archema e Torsud si spera nell'avvio di Falconieri nel sito della ex Golden Lady e poi ancora in taglio in basso continuiamo sempre sullo stesso articolo soffre l'automotive la FIOMCGL in attesi cali di produzione gli investimenti fermi al palo possiamo andare avanti siamo alle pagine di Teramo Gran Sasso acqua a rischio altri due agenti inquinanti gli ambientalisti rendono note le analisi effettuate ufficialmente nel 2015 e 2017 trovati idrocarburi la cui provenienza sarebbe sconosciuta alle stesse autorità di Spalla Quagliariello e la legge antispopolamento parchi e montagne sono un'ottima occasione di sviluppo ma c'è bisogno di più governance sulla costa Giulianova il ragazzo perderà l'anno scolastico decisione del consiglio d'istituto del Cerulli Crocetti nei confronti dello studente che ha ferito il marocchino gli è stato concesso di continuare nel programma alternanza scuola lavoro e ottenere la qualifica di manutentore di impianti lasciamo il messaggero Abruzzo portiamo sulla città siamo a pagina 3 altri disagi per il colpo di coda del maltempo traforo del Gran Sasso chiuso per un'ora ieri mattina a causa della comparsa di una lastra di ghiaccio nel territorio terramano nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 10 non è stato possibile effettuare 20 corse l'80% delle quali per la presenza di neve e ghiaccio si è registrata qualche anomalia ai bus ed è stato disposto l'invio di mezzi sostitutivi le basse temperature hanno portato la pioggia a ghiacciarsi appena toccato l'asfalto andiamo avanti a pagina 5 siamo alla cronaca di Teramo assolto il maniaco delle studentesse il 50enne che molestava le ragazze all'uscita da scuola era incapace di intendere e volere decine di casi denunciati dalle studentesse in via Carduccia l'uscita del Miglio nei parchi cittadini un caso al supermercato dopo le cure al nord Italia il giudice ha comunque disposto 5 anni di dimora in una struttura di cure psichiatriche siamo a pagina 6 il rapporto migranti un pericolo più che una minaccia il professor Gianni di Giacomo Antonio commenta i dati della relazione annuale dei servizi di intelligenza il tema è uno dei più dibattuti prima delle politiche il problema non è un'alternativa tra accogliere e respingere l'Europa prevede un massiccio rientro di combattenti dal Daesh dopo le sconfitte in Medio Oriente il pericolo di medio periodo è la possibilità che le idee radicali attecchiscano nel sistema d'accoglienza e il problema spesso le strutture di accoglienza sono gestite da volontari che non hanno formazione adeguata proseguiamo pastrocchio scuola bus anche nel capoluogo scuole aperte mezzi fermi per il pericolo ghiaccio i genitori lamentano la scarsa tempestività delle decisioni e torniamo alla politica stop ai vincoli i parchi siano una opportunità Quagliariello lancia l'appello all'entroterra Terramano per un progetto di legge di riforma delle aree interne Quagliariello cita il procuratore di Terramo Guerriero uno dei maggiori esperti dei problemi delle aree protette allora vediamo il servizio Gaetano Quagliariello immagina un cambiamento di passo per i parchi abruzzesi e lo fa proponendo una legge mirata che garantisca semplificazione investimenti agevolati e reti infrastrutturali adeguate le promette un impegno per la nostra montagna quale sarà io ho presentato una proposta di legge l'ho presentata ai sindaci della montagna abruzzese i cui comuni sono per lo più all'interno di parchi o nazionali o regionali l'Abruzzo è la regione italiana che ha più parchi la filosofia di questa legge è fare del parco un'occasione di sviluppo oggi non lo è perché incredibilmente non è il parco che serve l'uomo ma l'uomo che sucume del parco e quindi noi abbiamo fenomeni di spopolamento abbiamo una natalità bassissima e quindi fenomeni di invecchiamento quindi è uno di quei fenomeni che aiuta lo spopolamento delle aree interne lei che cosa propone? Allora io propongo innanzitutto che si cambi la governance dei parchi e che questa si avvicini a chi li abita quindi che abbiano un ruolo maggiore i comuni e i corpi intermedi in secondo luogo norme per defiscalizzare le attività che vengono imposte all'interno dei parchi soprattutto se vengono da giovani terzo una burocrazia zero perché molti degli incentivi in qualche modo vengono persi perché la burocrazia è troppo pesante il fatto che il parco venga abitato è un elemento di vita e quindi come tale deve essere valorizzato poi in più un collegamento più stretto con la protezione civile un ripensamento di quelle norme sciagurate che hanno abolito i forestali e infine una regolamentazione della caccia soprattutto per mantenere l'ecosistema perché in alcuni casi ci sono danni ingenti che vengono da alcune specie ancora la politica sulla città l'appello Rassicci appello al buon senso contro la politica rabbiosa la candidata del centrodestra all'uninominale chiede un voto utile a tutto l'elettorato e poi in basso la controreplica e Mariani che ha pubblicato fake news sul suo curriculum il movimento 5 stelle se la ride per le minacce di querela dati ufficiali presi dal sito della regione e poi ancora pagina 9 Rizzo unico candidato premier in città nella città di Teramo il leader del partito comunista fa il pienone di compagni alla cena al bar Nil noi proseguiamo andiamo alle notizie dalla provincia altre contaminazioni passate sotto silenzio Gran Sasso la denuncia degli ambientalisti dopo l'accesso agli atti all'istituto superiore di sanità da un anno abbiamo ribadito la necessità di dare accesso tramite i siti web a tutta la documentazione che riguarda il Gran Sasso per migliorare la conoscenza del sistema e garantire il diritto all'informazione nuove sostanze nel 2015 sono state riscontrate tracce di metil cicloesano e nel 2017 tracce di tert-butil perossido avanti ancora e siamo a Tortoreto Tortoreto che si mobilita per Denis Cavatassi risoluzione in consiglio per chiedere un intervento al governo italiano l'imprenditore di Tortoreto è stato condannato a morte in Thailandia con l'accusa di omicidio e poi ancora a Giulianova sul corso solo manutenzione ordinaria l'incontro con i commercianti Giuliesi salta per l'indisposizione di un assessore i commercianti temono che si possa tornare a parlare della tanto temuta pedonalizzazione del corso cittadino oltre Mastro Mauro e siamo a Giulianova Costantini ricompatta il centrodestra Giuliese nomi noti e tante sorprese la cena del Nuova Vita organizzata dal coordinatore di Forza Italia tra le sorprese presenti anche Marco Di Carlo della consulta sul turismo Gianni Massi dei commercianti e Peppe Marozzi quando amministriamo sappiamo farlo meglio rispetto al punto di non ritorno dove siamo stati spinti da 15 anni di centro-sinistra dice Costantini avanti e siamo a Roseto Plurinegozi per rilanciare il commercio la misura dedicata ai giovani permette di dividere le spese per l'attività il Plurinegozio potrà ospitare nelle stesse sale due attività commerciali diverse di due gestori a Roseto Fibrillazioni e prese di posizione sul Toto Giunt verso il Rimpasto il Vice Sindaco Tacchetti si dice tranquillo sulle deleghe Nunez non sarò mai stampella del PD tutta questa preoccupazione mi sembra prematura per ora concentriamoci sulle opere da realizzare a Roseto dice il Sindaco di Girolamo e poi aggiunge Tacchetti per quello che mi riguarda non sono disponibili ad essere merce di scambio per nessuno e siamo ad Atri con gli articoli non si fanno gare d'appalto il Sindaco Astolfi che risponde alla Ferretti sui fondi per la frana di Casoli c'è anche una stoccata i finanziamenti sono stati resi noti solo a mezzo stampa ma non sono arrivate comunicazioni ufficiali andiamo alla pagina dello sport della città e si parla di Teramo ventola subito in campo contro la capolista Panico sarà indisponibile tridente confermato Federico il presidente fa grandi sforzi perché tiene al Teramo e poi altri spunti per la formazione Sales ritorna a sinistra mancheranno Madio e Varas squalificati mentre Bacio Terracino è pienamente recuperato in casa Padova probabile coppia Giozzi Capello con Sarno che agirà alle loro spalle prima di tornare sulle pagine dello sport di centro e messaggero andiamo a vedere le prime pagine delle testate principali nazionali sportive siamo sulla Gazzetta che in tema di elezioni titola così in tema di derby di Milano l'exit poll dice Milan punta su Gattuso la metà dell'intervista ma alla fine non ci sarà il sorpasso sull'Inter ecco qui la rilevazione SVG Gazzetta su chi vince il derby c'è una preponderanza appunto sul fronte rosso-nero in basso il Paris Saint Germain deve arrendersi Neymar sarà operato a Rio in carrozzina servirà un recupero di tre mesi per andare in Russia Scudetto bollente se il Napoli è l'Olanda questa Juve è l'Italia vince sul fronte Lazio tare segreto la Lazio e Milinkovic che storie andiamo sul corriere dello sport l'apertura dai Ciro batti la Juve viaggio nella torre annunziata di Immobile dove parenti e amici gli chiedono di fermare con la sua Lazio i bianconeri per proiettare il Napoli verso il sogno Scudetto e poi ancora domani ci sarà la 2x2 di Walter Vertroni con i figli di Maradona e Falcao e poi di spalla contro Inzaghi Allegri ritrova Di Bala siamo su tutto sport l'apertura Milinkovic Savic l'obiettivo è il pericolo sul fronte appunto Lazio Juventus la partita di domani sotto la testata Cairo quante promesse tradite possiamo tornare ora ai quotidiani abruzzesi ecco qui le pagine dello sport del centro Sebastiani Candeloro prime prove d'intesa incontro tra il presidente del Defino e il patron del Francavilla lo studio una filiera che comprenderà altre squadre oltre al Pineto si punta all'estero con il Lugano del Pescarese Renzetti e poi ancora in basso Valzania tornerà a titolare in mediana domani il Pescari in campo a Cittadella dubbio in difesa tra Coda e Gravion l'arbitro sarà Giua un precedente con lui pareggio in casa con il Palermo avanti ancora Serie C il Teramo chiede a Gondò i gol per la salvezza attaccanti in crisi dietro a Bacio Terracino Settaretti c'è il vuoto tutti dobbiamo dare di più dice lo stesso Gondò sul fronte Serie D rinviata Castelfilardo Avezzano a rischio Fabriano Pineto e Nero Stellati Vastese Fofanas qualifica ridotta poi ancora andiamo sul fronte del calcio a 5 il Pescara perde i pezzi Vanessa e Jenny salutano la portoviesa e la brasiliana lasciano il club Biancazzurra in lotta per lo scudetto c'è area di smobilitazione ma la dirigenza smentisce e infine vediamo il messaggero Abruzzo con la pagina sul Pescara Zeman cambia ancora il tridente il Pescara domani a Cittadella ritrova Pettinari assieme a Mancuso e Falco l'obiettivo è interrompere l'assidenza da gol su azione che dura da oltre 500 minuti si parla anche di futuro sul messaggero a fine anno scontato l'addio a Zeman e Pavone poi ancora in basso tutto l'Abruzzo tifa Amatori Pescara siamo al basket oggi in Final 8 contro il fortissimo Omegna coach Raiola sono fortissimi e noi non al completo ma ci proviamo e poi ancora Vastese Francavilla prove di collaborazione abbiamo visto sul centro collaborazione tra Sebastiani e Candeloro qui si torna a parlare della collaborazione tra Vastese e Francavilla i patron Bolami e Candeloro di cui vi abbiamo parlato diffusamente nelle scorse edizioni dell'Abruzzo del Pallone del nostro TG il patron Bolami stiamo lavorando con un progetto concreto con Candeloro possibile coinvolgimento dell'Ancona Calcio Serie C Teramo recupera Ventola in difesa per Padova ancora titoli di Serie D l'Aquila tante incertezze slittano anche i rimborsi i giocatori non hanno ricevuto quanto promesso e aumentano i creditori Avezzano nelle marche partita rinviata per Neve e infine per il Fuzza l'Acqua e Sapone stasera anticipo di Russo a Rieti per il Vole di A2 Sieco sospiro di sollievo bench non ha nulla di grave Paralimpiadi a Silvio una tre giorni dedicata allo showdown e chiudiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6 vi ricordo le edizioni principali del nostro TG alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 per quanto riguarda Mattino 6 tornerà domani chiaramente alle ore 8 grazie a Silvia Gentile in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata Grazie a Silvia Grazie a Silvia